Le imprese non guardano con favore i neolaureati anagraficamente vecchi, ancor meno se essi non hanno esperienze lavorative alle spalle. Molti laureati o diplomati, infatti, non sono assunti perché non possiedono competenze ed esperienze lavorative, ma d'altra parte non riescono ad acquisirle perché nessuno li assume. È la trappola dell'esperienza lavorativa. Oggi abbiamo qui ad Infactor Valentina Magri per presentare il nuovissimo libro Gioventù bloccata, edito da sole 24 ore. Ciao Valentina e benvenuta ad Infactor. Buon poveriggio. Ciao Valentina. Allora noi già ti conosciamo perché sei molto molto attiva su LinkedIn, però chiaramente no, anche per presentare il libro chiediamo la tua presentazione. Chi è Valentina Magri. Valentina Magri, classe 1988. Mi sono laureata in management con una tesi sull'inattività giovanile in Italia all'Università Bocconi. Ho laureato nel settore finanziario e anche in quello fintech e collaborato con testate giornalistiche italiane e inglesi. Ho curato le relazioni con la stampa per Young Women Network, l'associazione per l'empowerment femminile in Italia. Sono giornalista specializzata in economia e finanza e attualmente coordino la versione online di Wall Street Italia. Bellissima carriera. E oggi sei qua con il libro Gioventù bloccata, quindi adesso ti chiedo, vuoi presentarci il libro invece? Certo. Questo saggio l'ho scritto insieme a Francesco Pastore, un economista che ha passato tutta la sua vita a studiare il mercato del lavoro, in particolare le transizioni dalla scuola al lavoro, che purtroppo ci ha lasciati nel luglio 2022. Questo saggio, per cui peraltro abbiamo vinto la prima edizione del premio letterario di saggistica economica e sociale del Sole 24 Ore, io e il mio coautore rispondiamo a domande molto gettonate tra giovani e famiglie italiane. Perché molti giovani italiani non trovano lavoro? Perché quando lo trovano fanno così tanta fatica a essere assunti? E come mai le aziende lamentano di non trovare le persone giuste per certi ruoli? Ci facciamo guidare dallo spirito della conoscere per deliberare di Luigi Einaudi, analizzando la situazione del mercato del lavoro italiano, facciamo proposte concrete poi affinché ciascuno faccia buon uso di queste informazioni. Genitori e insegnanti per orientare, politici e amministratori per implementare le soluzioni più efficaci, giovani per acquisire più consapevolezza. Consapevolezza è un termine che a noi di Factor piace sempre sempre tanto. E Valentina ormai, no? Finalmente, perché comunque per solidarietà possiamo dire che la scuola è finita. Però tanti ragazzi, seppur no nella spensieratezza, perché non sono così superficiale come tanti li dipingono, si chiedono ma i problemi ora sono finiti o in realtà i veri problemi cominciano proprio ora? Mi riferisco soprattutto ai neodiplomati, ma in generale anche poi nei vari periodi dell'anno anche ai neolaureati. Infatti tu nel secondo capitolo del libro affronti un momento molto importante che è quello dalla scuola al lavoro e scrivi Il passaggio dalla scuola al lavoro è la prima tappa della transizione dalla giovinezza all'età adotta. Un tempo era seguito da altri significativi traguardi, l'indipendenza economica, l'acquisto di una casa, il matrimonio, i figli. Ora invece i giovani navigano a vista in un mare di incertezze ed entrano ed escono continuamente dalla vita adotta. Ora Valentina, non voglio dire che appunto io sono giovane e giovane come i ragazzi che escono dalla scuola o dall'università, ho mai passato qualche anno, però in effetti anche per la nostra generazione leggere tutti questi traguardi, indipendenza economica, acquisto di una casa, matrimonio, figli, mette un po' d'ansia, no? Eppure qualche anno fa era normale da questo punto di vista. Dal tuo osservatorio privilegiato ci spieghi un pochettino quali sono le priorità dei giovani? Allora le priorità possiamo dire innanzitutto che sono state un po' cambiate un po' per tutti dal coronavirus. Le persone con il coronavirus hanno capito che si lavora per vivere e non si vive per lavorare o comunque la maggior parte delle persone e questo è un tema sensibile in particolare per i più giovani. Vi segnalo ad esempio una ricerca di Deloitte del 2022 che dice che le generazioni Y e Z vogliono dalle imprese opportunità di imparare e flessibilità e questo si traduce in smart working, lavoro ibrido e anche opportunità di carriera. Sono preferenze di cui le aziende devono tenere conto, altrimenti avranno problemi non solo a cercare i giovani da assumere ma anche a trattenere quelli che hanno già. Assolutamente, posso assolutamente confermare questa cosa, effettivamente è proprio così. e scorrendo il tuo libro a me ha colpito molto una storia che tu racconti, storia di Stefano Torki, la racconti nel quarto capitolo. Tu dici che la pratica del lavoro si contrappone alla grammatica della scuola, un'espressione che mi è piaciuta molto, parli della scuola come il tempio della cultura e delle università che tengono poco conto di tutti quegli sviluppi che accadono all'esterno. Quindi volevo chiederti, spiegaci un po' meglio perché soprattutto spesso i ragazzi sono usciti dall'università e qui Maurizio si ricorderà che la prima volta in cui ci siamo incontrati abbiamo proprio parlato di questo in una rubrica che tenevo proprio durante il coronavirus e la prima volta che abbiamo parlato insieme era per aiutare un ragazzo a decidere se fosse meglio appena terminata l'università scegliere di proseguire con un master oppure cercare lavoro e poi magari ripensare al master. Ovviamente non abbiamo dato una risposta, non è possibile dare una risposta generica per tutti, però ci può aiutare a fare questa riflessione, quindi a dare degli elementi che poi ogni persona peserà sulla propria esperienza. Dunque io credo che sia meglio innanzitutto cercare di fare esperienze prima di uscire dall'università, magari anche subito dopo la maturità che si è diventati maggiorenni, quindi si può iniziare qualche collaborazione, qualche lavoro e per lavoro intendo anche il servizio civile o delle forme di volontariato in oratorio alla Croce Rossa o con associazioni culturali oppure anche dei lavoretti come un commesso part time, dei lavoretti estivi, insomma io consiglio di fare esperienza lavorativa il prima possibile così si capisce meglio come funziona il mercato del lavoro, anche il valore del tempo, del denaro e dell'impegno, cosa significa perché purtroppo a scuola c'è un tipo di impegno ma è diverso, è diverso ed il mondo della scuola è molto diverso da quello che accade in ufficio, quindi è molto importante in realtà a mio avviso fare il prima possibile delle esperienze lavorative in modo anche da chiarirsi le idee su cosa si vuole fare da grandi, solo dopo magari consiglio anche di fare un master però una volta che si sa più o meno cosa si vuole fare, non fare un master tanto per farlo, tanto per mettere una stellina in più sul curriculum. In effetti questo è magari un tema particolarmente che riguarda il nostro paese perché effettivamente la scuola a volte sembra troppo troppo teorica, si va in un'altra direzione con dei percorsi più innovativi anche se comunque sono presenti da alcuni anni e mi vengono in mente ad esempio gli ITS, ci sono quindi dei nuovi strumenti anche innovativi e che in effetti garantiscono anche più opportunità professionali anche ad esempio più velocemente diciamo anche rispetto alle università però sono ancora poco diciamo così valorizzati, possiamo dire pubblicizzati da questo punto di vista e per fare proprio un piccolo approfondimento su questo tema Valentina ci ha inviato un'intervista della società italiana di economia a Prof Pastore riguardante proprio questo tema e in generale alcuni temi del libro perché in qualche modo ovviamente a noi di Factor piaceva avere il Prof Pastore qui con noi. Quindi lanciamo qui per tutti voi questo piccolo contributo video. Una mia convinzione è che tutte queste riforme che sono state fatte, alternanza scuola lavoro, ITS, apprendistato e dottorati industriali hanno avuto anche una, cioè sono diciamo importanti riforme però sono state fatte un po' come si dice facendo le nozze con i fichi secchi, cioè senza avere risorse perché siamo stati in un periodo di forti restrizioni fiscali e quindi queste riforme sono state fatte, gli ITS per esempio si parla da tempo di destinare agli ITS poche decine di milioni di euro e non si riescono a trovare i fondi. Ecco il Recovery Fund deve servire proprio per la next generation quindi deve essere dedicato al sistema di istruzione, al sistema di transizione scuola lavoro almeno in parte per aiutare i nostri giovani a superare più brillantemente, più velocemente la transizione scuola lavoro e arrivare a un'occupazione di qualità. Ecco ci piaceva avere questo intervento del Prof Pastore quindi l'abbiamo ascoltato volentieri. allora però Valentina torniamo a te e vorrei concludere proprio con i consigli che tu dai alle famiglie quindi mi hanno colpito perché hai detto alcune cose, hai scritto alcune cose abbastanza forti anche, hai chiesto, hai consigliato di non tappare le ali ai loro figli, ai nostri figli e quindi di non mantenerli all'infinito insomma sono delle cose forti da dire a un genitore e ci fanno capire che effettivamente a volte i genitori possono essere un po' troppo protettivi. Quindi cosa possiamo fare per coinvolgere anche i genitori in questo cambiamento e far loro capire dove possono sbagliare anche per eccesso di amore diciamo? Quindi pensi che occorra uno spazio dove interagire di più con i genitori? Pensi che serva uno spazio invece per informarli? Dice un po' cosa ne pensi? Nora per informarli sicuramente noi in piccolo abbiamo cercato di fare un po' la nostra parte in questo libro di dare un nostro piccolo contributo in tale in tale senso. A nostro avviso i genitori parlano parlano sì con i figli però a volte non lo fanno nel modo giusto anziché ammonirli e terrorizzarli magari solo sui rischi di una scelta che può essere andare a lavorare all'estero lontano da casa o di sbagliare. Si rischia di spaventarli e la paura la paura blocca e quindi li spinge spinge ragazzi a non fare certe scelte che magari vorrebbero fare quindi più che focalizzarsi sui rischi magari potrebbero parlare loro delle opportunità di quello che possono imparare facendo queste esperienze nuove e magari farli parlare in prima persona con chi le ha avute queste esperienze no perché gli possano raccontare che è possibile anche magari lavorare all'estero fare un'esperienza poi magari tornare in Italia no oppure se ci si trova bene perché no anche restare lì no spingerli un po a osare a non restare sempre fermi fermi in casa bloccati dalla paura questo anche sul lavoro però per cui se questo magari è un caso un po più frequente se un figlio decide di seguire una strada professionale diversa da quella che il genitore sperava per lui no perché ha proiettato magari le sue aspettative i suoi desideri non va ostacolato va va incoraggiato perché se quella è la sua vocazione se quello che vuole fare non gli si può imporre la scelta di qualcun altro perché o lo condanniamo all'infelicità o alla frustrazione o peggio ancora magari ad odiare i genitori su questo consiglio ad esempio consiglio letterario la lettera al padre di Franz Kafka per avere un'idea o il film l'attimo fuggente che tratta tra i vari temi anche quello del padre del padre padrone che impone al figlio le sue scelte e sempre in un'ottica di responsabilizzare i giovani appunto rientra anche il non mantenerli a vita perché se si scoraggiano e decidono di non cercare più attivamente un impiego non vanno mantenuti a vita perché saranno responsabili solo quando saranno in grado di provvedere a loro stessi anche sotto il profilo economico quindi più che parlare suggerisco ai genitori di ascoltare e capire cosa vogliono fare i figli da grandi non cosa vogliono i grandi da loro se non è manuela il libro gioventù bloccata vai valentina fallo di nuovo vedere in camera secondo me darà anche tante risposte a tante discussioni che ci saranno tra le famiglie genitori e ragazze anche sotto l'ombrellone di questi tempi che università fare no ma io voglio andare a lavorare magari non informarci leggere e coinvolgere per la fine non arrivare ad una decisione chiaramente si basa sulle esperienze dei genitori che vanno sempre ascoltati che è importante però poi no il futuro chiaramente anche i ragazzi quindi c'è c'è un lavoro che sicuramente l'ho fatto anche prima prima di una domanda quindi grazie mille valentina e corriamo tutti a leggere gioventù bloccata grazie mille valentina ciao grazie 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 a tutti